ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale io sono chris e quest'oggi con noi c'è mani 827 ciao mani ciao ciao a tutti ciao perché siamo qui mani anzi a proposito diciamogli dove siamo siamo nella mappa rdc già che c'eravamo siamo venuti a trovare la segheria e a vedere questo bel panorama questo posticino per parlare con voi siamo qui per spiegarvi tutte le modalità adesso mani vi spiegherà tutte le modalità per partecipare al nostro gioco concorso allora il gioco sarà semplicissimo nelle nostre video ci sarà un mezzo nascosto un po nel tutta la mappa che sarà visto proprio un attimino dal nostro caro chris sì praticamente li volevo spiegare praticamente ci sarà un inquadratura intanto che noi faremo o la serie cugini polacchi o qualunque altra serie un app tour un test mod ci potrebbe essere nascosto in qualunque dei nostri video ecco stavo dicendo perché praticamente vi daremo giusto un'occhiata veloce il più veloce di voi che lo vede deve scrivere sotto i commenti del video il nome c'è il suo nome con scritto l'ho visto in questo determinato punto era del colore tal dei tali giusto sì sì perfetto ok così poi noi faremo una classifica di tutti quelli che hanno risposto giusto durante la settimana e poi ti lascio la parola allora sulla telegram sarà postato ogni lunedì e la foto di quel mezzo esatto sulla sulla piccola icona che c'è del canale quindi sarà pura essere vista da tutti i nostri iscritti telegram è il primo che trova che dice sta qua con il nome della mappa il nome della mappa più o meno il il posto dove stava sarà sarà iscritto sarà avrà vinto ci sarà un tiraggio a sorte ogni venerdì ogni settimana per vedere il migliore della settimana ecco e poi in fine mese ci sarà un altro tiraggio a sorte fra questi quattro tra tutti i vincitori delle settimane ecco e ti lascio dire il seguito praticamente chi vi cioè i quattro vincitori delle quattro settimane ci sarà un tiraggio a sorte dove uscirà un ulteriore vincitore che questo vincitore prenderà praticamente il premio del mese e quali sono i premi i premi del mese te li dico io gli ridici tu i premi del mese dipenderà poi da se l'utente che ha vinto è un utente pc ci sarà una ricarica steam da 20 da 20 euro se invece il vincitore è un utente playstation 4 xbox one ci sarà per le rispettive console una ricarica da 20 euro sempre mensile sì perfetto volevo dire però conviene che sotto il video di dove si trova diciamo il mezzo l'utente che l'ha scovato conviene che ci viene a scrivere la parentesi se ci si sta su pc è fatto l'unica cosa mi raccomando specificate se voi arriva se siete utenti pc console e quale console per nintendo purtroppo non posso fare niente per ancora per adesso anche se so che anche se so che farming adesso mi sembra che approdata sia su stadia fra un po approderà e approdata forse anche su nintendo switch ma non sono sicuro però neanche lo sapevo sì vabbè per adesso per adesso sarà saranno questi tre qui il gioco scusami la coppia il primo foto dell'immagine tra messa il 11 settembre quindi mercoledì ecco inizia veramente inizia però cercheremo di posizionare questo mezzo ma non ve lo dico saranno sorpresi a voi di trovare esatto perché sennò ecco a volevo ricordare per giunta i vincitori di tutte le settimane oltre ad avere poi la possibilità di accedere a premio finale a premio mensile avranno anche la possibilità se vogliono o di seguire una nostra registrazione oppure di farne parte sì sì giustamente giustamente è una possibilità pure per loro per loro esatto se voglio volete partecipare a una delle puntate sappiate che se vincete la settimana avete anche questo diritto o anzi seguire una nostra registrazione pure il mutato e solo ascoltare come facciamo se non volete registrare potete anche solo ascoltare diciamo dietro le quinte esatto cos'altro volevo c'era qualcosa che dovevamo che dovevamo dire al momento non mi ha una cosa importantissima per giocare dovete essere iscritti a telegram cioè sul mio gruppo telegram perché se no la foto non vedete qual è non potete sapere qual è il mezzo infatti sarà ad oggi siamo 14 iscritti sul gruppo telegram per cui io penso che tirato via me e mani saranno solo 12 le persone che potranno partecipare al gioco concorso senza esitare qui ragazzi iscrivetevi se volete provare a vincere anche voi questo mega premio mensile che se le cose vanno bene da 20 euro non è detto che poi pian piano si possa anche andare a migliorare coi premi e adesso li sponsor questo ci danno poi magari più avanti chi lo sa cosa potrà succedere niente io allora penso che per questo video sia tutto vi ringrazio di essere stati qui con noi ringrazio mani di averci di avermi aiutato a spiegare bene il tutto grazie a te grazie a te e poi volevo ricordarvi lasciate il like se il video l'avete trovato interessante condividetelo perché più persone ne vengono a scoprire di questo gioco concorso più sarà divertente partecipare dimmi iscrivetevi su telegram perché sono non potete giocare un bacio a tutti e un abbraccio ciao a tutti ragà ciao